Cosa aspettiamo qui riniti al foro? Oggi devono arrivare i barbari. Perché tante nersi al senato? E i senatori perché non le cifrono? Oggi arrivano i barbari. Che leggi possono fare i senatori? Venendo i barbari le faranno loro. Perché l'imperatore è senza tribunola e sta alla porta grande della città, solenne, in trono, con la crona sulla fronte. Oggi arrivano i barbari e il sovrano è in attesa della visita del loro capo. Anzi, ha già pronta la pergamena da offrire in dono dove gli conferisce nomi e titoli. Perché non vengono anche gli ignoratori a perrare come sempre? Oggi arrivano i barbari e i barbari vi sdegnano, eloquenze e arrivi. Tutto a un tratto perché questa inquietudine e questa agitazione. Perché si svuotano le vie e le piazze e tutti fanno ritorno a casa preoccupati. Perché è già notte e i barbari non vengono. È arrivato qualcuno ai confini a dire che i barbari non ce ne sono più. Questa è una città di fantasmi. Si manifesta dalle rovine e alcune solitari umide banchine, dove turisti marcia un cemento d'anni. Sento una pietra infilarsi da una costola, una pietà che mi consola e un ricordo distante in nera. Io ho i tuoi occhi, tu hai i miei occhi. Siamo due gatti. A volte mi sento così debole. Mi sono chiesto dove tu sia nata, quanto fosti arvelenata da farmi sentire così colpevole. Sei senza volto, sono senza volto. Ma sono come un aereo da quassù. Le case sono paesi, le strade sono bagnate, capelli di alme passate e amate. La pioggia di tutto, la genesi. Tu le sorprendi. Tu le этим s Stug действi. Tu le sorprendi alla fine. Tu le sorprendi alla fine. Tu le sottons comunicazione. Buon appetito! Grazie per la visione!